Addio a una storia di successo nel giornalismo italiano. Cari telespettatori, oggi ci troviamo qui riuniti per una notizia triste e commovente. Il mondo del giornalismo italiano ha perso una delle sue figure più amate e popolari. È con grande dolore che annunciamo la scomparsa di Daniela Mazzacane, volto noto del TG Norba, che ci ha lasciato dopo una coraggiosa lotta contro una lunga malattia. Aveva solamente 59 anni e per ben 25 anni aveva portato avanti il suo impegno all'interno dell'emittente televisiva. Daniela Mazzacane aveva fatto il suo esordio 25 anni fa alla guida dell'edizione mattutina del TG Norba, con Vincenzo Magistà come direttore. Da quel momento la sua carriera ha avuto una crescita costante e la sua popolarità non ha mai smesso di aumentare. Aveva la capacità unica di entrare nelle case degli italiani con uno stile semplice e rassicurante, diventando una presenza amata da persone di tutte le età. I colleghi la ricordano con affetto e la definiscono l'amica di tutti, sempre disponibile e mai reticente a scattare un selfie con i fan. Il suo talento l'ha portata a coordinare e condurre il TG Prima, una trasmissione incentrata su temi di cultura e società, e successivamente a guidare Pomeriggio Norba, uno spazio dedicato ai pomeriggi televisivi. La sua capacità di comunicare in modo empatico e coinvolgente le ha permesso di raggiungere un'ampia platea di telespettatori, guadagnandosi una grande popolarità sia tra gli adulti che tra i giovani. Nonostante la sua intensa carriera televisiva, Daniela aveva una vita al di fuori degli studi, con un impegno costante in eventi benefici e sociali. La sua generosità e umiltà erano evidenti anche nei rapporti con i colleghi, e il suo contributo alla Radio Norba è stato particolarmente apprezzato. Gigi Marzullo, noto presentatore televisivo, l'aveva intervistata su Rai 1, raccontando la storia di successo di Daniela. La sua popolarità era diventata un fenomeno notevole, tanto che Marzullo aveva persino pensato di scrivere un libro su di lei. Purtroppo, il libro non vide mai la luce, ma la storia di Daniela Mazzacane continuerà a vivere nel cuore di tutti noi. Oggi, mentre ci uniamo in cordoglio per la perdita di una grande giornalista e persona, vogliamo ricordare Daniela con tutto l'affetto e la gratitudine che merita. I funerali si svolgeranno il prossimo mercoledì 2 agosto a Bari, un'occasione per rendere omaggio a questa donna straordinaria. E ora, prima di concludere, vorremmo chiedere a voi, i nostri cari telespettatori, di sostenere il nostro canale Top 5 News Italia, iscrivendovi e attivando tutte le notifiche tramite la campanella. In questo modo, non vi perderete mai le nostre notizie e gossip sempre freschi e interessanti. Infine, vogliamo lasciarvi con una domanda riguardo alla notizia che vi abbiamo appena dato. Quali ricordi avete di Daniela Mazzacane? Vi invitiamo a condividere le vostre esperienze e riflessioni nei commenti qui sotto. Grazie per essere con noi e a presto con altre Top 5 News.